Senti mamma, allora com'è la sensazione di star qua con nipoti, pro nipoti, figli? Io non lo volevo proprio. Eh? È una meraviglia. È una meraviglia? Cosa? E non ci credo. È strano eh? È stranissimo. Ma che bisnonna super top. Quattro a vicende. Michelle Unziker ha recentemente organizzato un pranzo familiare davvero speciale. Riunendo sua mamma, le sue figlie e i nipotini. Hanno creato un momento di condivisione unico. La mamma di Michelle, ormai bisnonna, è apparsa radiante, mentre si godeva la tavolata circondata dalla sua numerosa discendenza. La gioia negli occhi della bisnonna era palpabile. Un ricordo prezioso per tutti. Nel frattempo, il piccolo Cesare, membro della nuova generazione Unziker, ha ricevuto un regalo molto speciale da suo nonno, Eros Ramazzotti. Una bavetta bellissima e personalizzata. Questo gesto ha reso ancora più forte il legame familiare, dimostrando quanto siano uniti i membri della famiglia Unziker. La famiglia continua a crescere e a rafforzarsi, creando preziosi momenti di amore e condivisione che li legano sempre di più. La loro unione è un esempio di quanto sia importante la famiglia nella vita di ognuno di noi.